Nei 5 Stelle, polemiche e imbarazzi per le uscite di alcuni candidati, Di Maio ribadisce, abbiamo regole ferre e chi sbaglia è fuori dal movimento. Claudia Mazzola. Non mi riconosco più in questo movimento che si pone come la sua più volgare negazione. È il duro post di Chiara Di Benedetto, deputata uscente, alla critica, che motiva così il ritiro della propria candidatura. Adesso c'è un leader, una struttura di partito e una lista di riciclati da altri partiti. Ad imbarazzare i 5 Stelle anche i commenti razzisti del grillino piemontese Paolo Turati, che poi si scusa uno sfogo infelice. C'è poi il messaggio del responsabile comunicazione del Veneto, che invia questo sms ai candidati, giustificandolo come operazione trasparenza. Cercatene fandezze e foto scandalose sugli avversari. È il caso di Emanuele Dessì, candidato al Senato, che abita in una casa popolare a 7,75 euro al mese. Il comune dice che ha i requisiti e lui si difende, ha chiesto di aumentare il canone, ma la legge non lo permette. Di Maio, che con Grillo nelle retrovie si trova a gestire il movimento da solo, sceglie la linea dura, pronte le dimissioni in bianco per far lasciare il seggio a Dessì, se sarà eletto. Il candidato premier, impegnato in Sicilia nella campagna elettorale, spinge sui temi economici. Ampieremo la no tax area, dice, e interverremo sull'IRPEF. Ma non si placano le polemiche sulle parlamentarie. Noi siamo stati gli unici in Italia a fare le parlamentare e oggi se ci sono le liste presentate alle corte di appello e ufficializzate è perché i cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato e hanno potuto votare i loro parlamentari e decidere chi mandare in Parlamento. I numeri delle votazioni online non possono essere resi noti per garantire la privacy, spiega Casaleggio, ma i militanti e gli esclusi si chiedono. E la trasparenza?